Cena di San Valentino al bel sito Teleguetorri, info e prenotazioni 0825 67 00 01 Il consiglio comunale di Avellino smentisce l'ex senatore Enzo De Luca che al ricorso al TAR si era detto contrario poiché chi governa deve esperire vie politiche e non giudiziarie aveva commentato il membro dell'osservatorio regionale sui rifiuti ma la maggioranza del PD avellinese che intende sì dialogare con la regione ma dimostrarsi al tempo stesso intransigente l'ampliamento dell'impianto di piano d'ardine non sa da fare, costi pure un ricorso al TAR la mozione è dell'opposizione la maggioranza di centro-sinistra presenta un contro-documento che sottolinea prima la necessità di ricercare il confronto su queste basi la mediazione è possibile matura così una clamorosa unanimità per la soddisfazione di tutti anche dei comitati ambientalisti presenti in aula che pure loro fossero scettici sull'esito lo dimostra la monnezza impacchettata a mo' di regalo e virtualmente consegnata all'aula umido dello stir, aria della valle del sabato prodotti al veleno by piano d'ardine ma il consiglio dà prova di maturità non intende cavalcare proteste né sottrarsi alla proposta per cui dal documento finale sparisce l'ipotesi di delocalizzazione dello stir. Si lavorino rifiuti secondo le quantità stabilite si lavori in condizioni di salubrità ambientale si lavori alla bonifica della valle la soddisfazione trasversale degli ambientalisti del gruppo d'opposizione si può della maggioranza stessa ma cosa prevede il documento? Che il capoluogo percorra tutte le strade per opporsi all'ampliamento compreso un eventuale ricorso al TAR entro il 25 febbraio, data di scadenza dei termini per opporsi al provvedimento con cui un dirigente della regione ha autorizzato la valutazione dell'impatto ambientale per il potenziamento dello stir basterà il ricorso? Non ce ne sarà bisogno perché la regione targata De Luca ascolterà il comune capoluogo a guida democratica e ascolterà pure il consiglio provinciale i cui esponenti si dicono pronti a non firmare accordi l'ardua sentenza arriverà da Palazzo Santa Lucia la decisione comunque vada nel PD è destinata a provocare ulteriori scossoni interni